musica 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 ragazzi, allora, finito di mangiare, tutto buonissimo vi consiglio di venire a questo ristorante eeeh che ti chiama praticamente antica questa non mi dite l'indirizzo che non la faccio ciao ciao a tutti allora dopo questa bellissima mangiata quindi questo giro che vi state vedendo non poteva mancare fermarci a piazza che è qualcosa di straordinario anche se io personalmente devo dire la verità amo amo vedere queste cose di giorno sinceramente parlando bello eh ragazzi tanti artisti di strada proviamo con un'altra opzione di video allora abbiamo provato l'opzione guarda se sarà l'opzione night quindi vediamo in rilievo la luce guardate qui che bellezza ragazzi bella ebba bella ebba ehi ma che fa questa marinetta uff delle marinettine insignificanti guardate qua che delizia guardate qua che bellezza immagini parlano da sole immagini parlano da sole proprio bella bella eh tappeto tappeto montiano mamma mia tappeto come vacanzina è carina eh non è fardello bello eh ragazzi non mi piace non posso dare nessuna spiegazione qua è stata un'improvisata e non posso dare nessuna spiegazione tantissimi artisti di strada tanta gente guardate che bello e poi ci sta l'altra parte della fontana laggiù però è inutile arrivare è inutile arrivare laggiù per la stessissima cosa guardate qua che belli guardate questa la vedremo questa la dobbiamo venire a vedere di giorno è quando è quando sta meglio è il salto dati e quindi continuiamo con il vaticano bellissimo francesi godete